e bello a tutti ragazzi di quale manager 740 e oggi giocheremo a minecraft la nostra vanilla come vedete purtroppo è in modalità creativa perché ho messo il salvamentario perché io non sono bravo in tutti i giochi però c'è non sono bravo però ho bisogno di un aiutino quindi non avevo vita infatti infatti ora non mi voglio mangiare un bel pane ok la mappa qua è esplorata controlliamo un po' dove la posso fare la casa preferirei qua vicino più o meno qui facciamo la faccio di legno si bastone due e poi ho bisogno di prendere ok però ora sta venendo la notte quindi non so se trovo un'altra pecore possibilmente normale vediamo un po' ecco noi voglio le pecore appunto poi non li mangio maiali quindi li posso soltanto allevare sta per venire la sera o non dormo ok ecco una pecore vabbè uccido questo poverino ciao bella muore 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 ci muore grazie molto gentile allora pecore bianche benedetto oh due dove sono vabbè questo è un fake avvengono ogni giorno no com'è dove hai perso non si vede nulla eh grazie allora allora scusate se non si vede niente però ora devo mettere giorno mi dispiace perché sennò di notte non si vede niente e non è colpa mia se il rendering non è molto bello io cerco di portare contenuti che a vostro gradimento ci sono ce n'è un altro lì dietro l'albero si poi sono finiti no con lo scale sono finito a noi io cerco di portarvi contenuti a vostro passicchiacemente infatti ve l'ho anche chiesto quale serie volevate quella di minecraft e quella di GTA e io ora sto portando come ho detto nel video di GTA ora posso parlare tanto qua è un po' noioso infatti non so se ve lo farò vedere mentre sbosco un po' d'alberi penso di no quindi ci rivediamo quando ho fatto un po' di materiali ok siamo tornati lì davanti a me c'è uno scheletro che non mi deve vedere ho fatto la mia prima crafting table penso di fare prima una spada perché vorrei anche uccidere questo scheletro davanti a me ok ok mettiamo qua e dopo mi faccio una bella piccozza e poi tutto allora vediamo di uccidere quel benedetto scheletro che mi darà anche un bel fastidio ciao surprise ahia ma no quanto male fai grazie allora non mi ricordo però dove mi sono stabilito bello quel cavallo però ora la cosa che mi preoccupa di più ho sentito creeper non lo voglio neanche vedere dov'è eccolo lì via di qui dato che non ho neanche vita e non voglio rimorire un'altra volta comunque che argomento riprendevo me lo riporto però grazie a tutti del supporto ah si un'altra cosa che ho detto su GTA 5 e il mio canale non è di così perché voglio che ne so guadagnare soldi brava Gemma qualche parola stai parlando poco però le poche parole che stanno uscendo dalla tua bocca sono intelligenti per la prima volta sto scherzando e se no da noia quindi ma che dai noia si fai anche te parte di questo canale benedetto signore non mi ricordo più dov'è aspetta fammi vedere la mappa allora mi sa che era perso il no c'è comunque lo scopo del mio comunque lo scopo del mio del mio canale è intrattenere voi cioè intrattenervi ci ritroveremo quando allora riprenderò il discorso dopo quando ritornerò al mio villaggio bella siamo ritornati siamo ritornati siamo ritornati comunque vi ho chiesto anche nello scorso video chi voleva essere salutato ok oggi quest'oggi salutiamo leonardo giulia e poi non me l'hanno chiesto più cioè comunque se volete salutare se volete essere salutati in un mio video leonardo fogli e giulia fogli sono non ci dice il cognome e vabbè comunque c'è scritto leonardo fogli cioè leonardo fogli giulia fogli comunque ho bisogno della lana quindi vi vogliamo un bacione e grazie di essere iscritti grazie di esservi iscritti che loro sono i primi a essersi iscritti no oltre ai miei amici che i miei amici sono stati fantastici eccola lì il primo credo che è stato Thomas sia stato Thomas si comunque ho trovato l'isola l'isola funghi dei funghi e questa è un'ottima notizia mi ha detto c'è un'altra piacora non me la potevate dare da una piacora c'è tre di lana ora che vuoi? due no perché nella cesta ce l'hai sicura? si comunque aspetta voglio vedere qua lì ce n'ha c'è l'isola mucca fungo vabbè non ciò voglio andiamo a vedere veramente scusate vabbè pace comunque in questo episodio faremo la casa e poi basta intanto lì ho piantato un paio di cani da zucchero così per abbellire e farle crescere che mi danno la carta per fare un sentiment table per poi fare libri per poi incantarli per poi incantarli per poi incantarli e fare le armi e diciamo per fare tutto quello che ci serve qua mamma mia quanto son brutto non ti si vede neanche la faccia bene siamo messi benissimo allora non si vede proprio la faccia c'ho capelli più secchi di lino ma invece ce l'hai belli oro ehm si perchè c'è la luce anche io ce l'ho no oh come c'è bellina se c'ho veramente uno di lana ehm vabbè ce l'hai uno per lana vediamo un po' se funziona seriamente no l'avevi già fatta la seguente patch cioè non so che l'hanno migliorato fammi vedere no prova con un rosa ora no non funziona con rosa mi dovrebbe dare uno rosso se non sbaglio no prova con rosa non ci voglio di ristaltare un'altra volta la notte dai una peccola che vi cambia gioco tanto tutto fammi avanzare che è la cosa fondamentale no non fare gioco eccolo lì non fare non fare notte che sennò non si vede nulla la telecamera è vero devo mettere anche un paio di torci ma poi vado a miniera nel prossimo episodio comunque eccolo lì si ciao piccolo io ti rispetto perché ho devo rispettare la cultura di alcuni miei amici quindi non ti mangio però ti si che ti mangio muore 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 no ti devi prendere lo stesso comunque comunque ah già devi salutare appunto loro ah si saluto Giulia Fogli no Leonardo Fogli poi saluto Idris Idris si già mi aveva chiesto anche lui Idris laoda no laoda no vabbè saluto anche lei salutiamo tutti a questo punto vabbè sono tutti i cugini saluto laoda Idris vabbè tutti in pratica aspetta fammi fare il letto che non posso andare a dormire Giulia c'è uno scadetto accanto se mi provi a cerchinare ti giuro su su sul 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 mio letto ti ammazzo muoviti che smirate sta tirando scusate benedetto aia muori Giulio ci muori che ci muoiono scherzavo Giulio non si vede niente muoviti non ci vede niente infatti quindi andiamo a dormire dormiamo grazie di avermelo detto guarda non lo sapevo comunque creiamo questa benedetta casa che se no poi la benedetta casa non ci esci cioè esci freccio sbagliato bravissima è caduta sotto non ci vede niente ok allora io devi ripiattare questi che sono armosso della giungla è buonissimo è buono mi piace come il coccino per coltivare che ne so le carne e le sceglie mi sembra eccoci Giulio c'è un creeper accanto non importa che tu lo dica sono scemo sì ma non ha quel punto per me devi andare a prendere un'altra cosa faccio un bloccemente questa casa perché devo andare via dopo non è vero come no ah sì è lì ti ricordi niente non ti ricordi eh oh non è non è che casetta allora ciao babbi un bacio scusate ragazzi ma è così oh il nostro babbo non c'è ma c'è ma c'è non è che ha problemi il mio babbo è normalissimo un creeper del fango come tutti un altro colpo e possiamo andare se morti no perché con la spada di legno un altro colpo e devo tirarmi allora io la faccio abbastanza piccola ma perché aspetta dopo metto le porte prima ma perché un altro una quanti creeper benedetto signor ci sono in questo tre è dormito quindi si risparla non è esplosio meno male se non ripeto con queste miele in testa tutto è dovuto rispetto vanno pigliare infarti sti creeper a parte ma ho rigenerato tutta la vita anche tutta la fame ok comunque costruisco la casa e poi ci rivediamo ok allora ho fatto un paio di camion ma che dia mio c'è il formaggio aspetta fammi salire grazie è nato questo ci smettila di bere Gemma grazie no se è nato questo intanto metto un paio di torci qua così e lascio una torcia qua che dovrebbe eliminare ok allora ho racconto questi materiali è diverso lo so mi farò ridere però la mia casa è come me è come me strana vedrò una cosa è il mio legno preferito quello diverso questo qui che è il legno la legna di quarcia scura è bellissima io la odoro la odoro attenzione perché lei sa l'ha già usata ma c'è è vero Giulio perché hai fatto così kiss perché sono materiali eh è carina qualcosa vabbè la facciamo bassa come me e me e come Gemma ragazzi scrivete qui sotto una cosa devo dire io qualcosa bene bene comunque la facciamo anche di qua di questo allora allo speciale 50 iscritti quindi andate che non ci arriverà che non ci arriveremo mai molto facilmente ci arriveremo difficilmente però forse ci arriveremo forse forse tanto ora mi sponsorizzo a scuola tra un po' ricomincia voi anche voi anche voi alcuni ci vado a scuola insieme ma a tutte le persone diteli di seguirmi tanto anch'io e tanto se si iscrivono e hanno già un canale che ne so per entrare in youtube dovreste avere un canale youtube dovreste avere un canale aiuto e quindi dovre cioè mi viene scritta la notifica però grazie al mio al nostro hub coso coso si è iscritto al canale e quindi io posso salutarmi però come faccio se uno non ha un canale nel senso che si iscrive però non ha un canale come faccio io a capire si commenta con scritto mi saluti però controllo se quello si è iscritto o meno quindi la casetta è questa e ragazzi comunque è grazie al nostro babbo che è iniziato il canale perchè lui se noi non ce l'avevamo di già noi lo facevamo quindi è grazie a lui ok la casa è finita perchè se andate sui primi video ci sono loro con i pappagalli perchè praticamente il nostro babbo le vende ce ne ha mille di pappagalli allora comunque una cosa speciale c'è il fonte scritti faccio i balli di fortnite quindi balli noi si fanno? si e poi a regola tra un paio di giorni ma tra un paio tra un paio dovremmo uscire uscire un speciale di noi due prova a non ridere challenge quella con l'acqua che ci dobbiamo sputare il nostro cugino di quarto grado quinto non si sa neanche se è il nostro cugino comunque noi lo chiamiamo cugino di terzo grado e quindi lo saluto ciao Jacopo e lui ci dirà le battute che scrivo io le vado a cercare si anch'io eh perchè non devono far ridere solo un mese no? e ci sputeremo addosso però ci mettiamo una maglia o un costume si ma io la maglia andiamo a maglia maglia vai quindi la casa è finita lo so che non è venuta molto bene mi sono dimenticato una cosa allora allora il video è già 15 minuti e anche 16 quindi devo chiudere velocemente solo due quanto quello di GTA allora e Giulio non ti si vede è strano eh sono troppo basso comunque e proprio non ti si vede e lo so c'è la luce non funziona comunque io quinto il gioco ehm usciamo e ci sono i miei compiti che bello che bello vederli che le devo ancora più indietro ah non uscirà ecco così più indietro non usciranno ogni giorno ahia un video così forse scusate se li faccio più tardi però il pomeriggio gioco con i miei amici e quindi o sennò va sempre in bici non ho il tempo di registrare ok non ho più non ho il tempo di registrare e quindi non sempre sono video puntuali però so che se non esce un giorno un video esce l'altro giorno quindi faccio due un giorno sì un giorno no perché non sempre posso giocare se no uno uno zero uno zero zero perché non sempre posso giocare comunque ragazzi vi volevo far vedere una cosa i nostri pesci che bello nemo e luna poi vi farò fare il tour della casa siete famosi allora questa è luna allora questo è nemo nemo no questa è luna il più grande è questa è luna che scappa questa è luna viva luna questa è lè è nemo viva nemo viva nemo comunque non sempre usciranno video quindi può darsi che io faccia un video un giorno sì un giorno no quindi è uguale miei bei compiti da managgiano 740 è tutto arriviamo ai 5 like per un prossimo episodio 10 like per supportare la serie e grazie a tutti per il supporto perché ultimamente sto guardando sto guardando i miei video che state lasciando un fottio di mi piace quindi grazie e ragazzi stai buona che vorremmo dire ora registro io ciao allora eee eee le live non dovrebbero uscire perchè devo risolvere questa cosa dell'audio quindi 5 like prossimo video 10 like per supportare la serie 20 like se volete 20 like se 20 like se volete il tour della casa 20 like 20 like 20 like la nostra camera che non è di vita sono piccole però è piccola la casa così è quindi da managgiano 740 è tutto e da Gemma ciao noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti